La probabile costruzione di un parco eolico a Favara nelle zone denominate delle 4P, che racchiude le contrade Priolo, Piano Bisaccia, Pirciate e Poggio di Conte, ha spinto il deputato regionale del PDL Nino Bosco a convocare una conferenza stampa per esprimere tutta la sua contrarietà alla realizzazione del progetto. Il deputato a giorni sulla questione presenterà anche un'interrogazione parlamentare da porre all'attenzione dell'assessore regionale territorio d'ambiente Roberto Di Mauro. Nel corso della conferenza tenutasi presso il Caffè Italia di Piazza Cavour, più volte l'onorevole Bosco ha definito folle il progetto che mortifiche le intelligenze dei cittadini onesti. In relazione all'approvazione lo scorso 21 giugno da parte del Consiglio Comunale dello schema di convenzione con la società catanese promotrice del parco, passata ad Aula Falcone Borsellino con i voti favorevoli di 18 consiglieri su 24 presenti in quell'occasione, il massimo esponente locale del PDL Forza Italia vuole sapere dai gruppi consigliari che in questa occasione si sono dimostrati uniti se la loro è una posizione politica netta o se agendo trasversalmente c'è sotto qualcosa di diverso. Se la loro è una maggioranza politica, dice Bosco, allora voglio conoscere i loro programmi. Se quest'ultime iniziative programmatiche mancano, allora io mi preoccupo ed anche i cittadini lo devono fare. Ci troviamo dinanzi ad un sindaco che nelle interviste parla dicendo che sta costruendo lo sviluppo per i prossimi vent'anni in questa città e invece sta semplicemente deturpando il territorio comunale. Dinanzi ad un'iniziativa così offensiva nei confronti dell'intelligenza dei favaresi è necessario che ci sia quella politica e quella parte politica sana che in questo caso deve difendere il territorio della nostra città. Lo vogliamo difendere insieme ai cittadini favaresi, insieme al comitato spontaneo dei cittadini di quelle contrade che si è venuto a costituire. In tal senso siamo pronti e sono pronti a portare avanti qualsiasi tipo di iniziative perché questa idea e questa iniziativa folle venga bloccata. Quindi fare depressione sui vincoli di natura paesaggistica e archeologica? Non c'è dubbio, è impensabile pensare di portare avanti queste iniziative. Il semplice fatto che il sindaco abbia dato retta a questa indicazione che arrivava da un privato e poi dichiari per esempio che se ne lava le mani come Ponzio Pilato perché dice che aveva questo progetto dentro cassetto da parecchi mesi è una follia. Siamo dinanzi ad un sindaco che lo difenirei Ponzio Pilato, lo difenirei un notaio che invece di avere un'idea di sviluppo per la nostra città non ce l'ha e secondo il suo principio praticamente se domani mattina abbiamo 100 privati che fanno 100 richieste e magari delle 180 rappresentano delle richieste indegne per lo sviluppo della nostra città il sindaco solo secondo la sua spiegazione e il suo principio perché non può tenere le pratiche nel cassetto le passa al Consiglio Comunale. Capite bene che questa città non può stare in valia di questa amministrazione comunale non può stare in valia di un sindaco che non ha idee organiche, programmatiche di serio sviluppo per la nostra città allora è intanto necessario bloccare questa iniziativa che è vergognosa ma poi è necessario costruire anche un'alternativa politica un'amministrazione che non sta facendo nulla per far crescere la città di Favaro. Alla conferenza erano presenti anche i rappresentanti del comitato spontaneo di cittadini che risiedono nelle zone interessate dal Costituendo Parco Eolico e che per l'occasione hanno registrato anche la solidarietà e la vicinanza alle loro posizioni del comitato dei cittadini del quartiere Itria. A quanto pare sono stati sentiti solo le opinioni dei proprietari dei terreni su cui verranno installate le palle. Già qui decade il parco perché non bisogna chiedere a chi è interessato economicamente ad avere un rapporto con noi ma bisogna chiederlo a tutta la contrata. In tutte le cose c'è una misura e c'è un criterio. Noi sappiamo che l'entroterra agrigentino, Sant'Angelo Mucchisaro, San Pia, ci sono vette abbandonate dove quello sarebbe un valore aggiunto, un parco eolico là sopra e sarebbe anche un motivo come far fruttare quei terreni che non producono più neanche caracitola, lo metto tra virgolette. Lì però gli utili verrebbero a perdere, ci sarebbe meno profitto perché bisogna portare le infrastrutture. Qui ci sono già le infrastrutture pronte e subito andiamo a piazzare in maniera indiscriminata. Hanno fatto una beffa ai cittadini e magari hanno sollevato un falso problema perché basta uno solo che non sia interessato ad avere un rapporto economico con questa emozione nazionale, basta un solo cittadino che dice a me non sta bene e il falco non si fa. Nel corso della conferenza si è parlato anche della situazione politico-amministrativa favarese dove l'onorevole locale, forte della presenza di uomini che compongono il suo gruppo politico in consiglio comunale, ha ribadito la netta posizione di opposizione che il suo gruppo continuerà a portare avanti fino al termine della legislatura del sindaco Russello.